Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator Io sono sempre Glacial Sphere e vi ricordo come sempre di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale e di condividerlo con chiunque possa essere interessato a vedere un gameplay di Power Wash Simulator che effettivamente so essere pochi, ma si è rivolato un gioco estremamente rilassante e parecchio godibile Ah, con grandissima mia sorpresa anche Detto ciò oggi, continuiamo la carriera con La Casa Scarpa Andiamo Marta Hubbard Marta, tra l'altro, mi fa venire in mente una scena molto stupida Comunque, di un film Grazie davvero per la disponibilità, sei un vero tesoro È bellissimo che la nostra scuola materna si trovi nel bel mezzo di una foresta ma, essendo esposta alle interperie, ormai è così sporca che i bambini stanno iniziando a insudiciarsi avevo letto velocemente a suicidarsi Insomma, ecco Meglio di no Ai vecchi tempi riempivamo qualche secchio e ci pensavano i piccolini a pulire tutto della cima a fondo Ma come, pure lavoro minorile? Sfruttamento minorile? Si divertivano un mondo senza farsi quasi mai male Tra l'altro, vabbè Al giorno d'oggi, però, basta che mettono un piede sul tetto per far storcere il naso ai genitori Figuriamoci, pulire le grondaie Beh, voglio, insomma, non hanno tutti i torti i genitori qui Se potessi venire a dare una lavata alla casa sarebbe semplicemente meraviglioso Andiamo Facciamo finta di leggere No, qua Facciamo finta di leggere i dettagli Ecco qui Il messaggio che ci avevano inviato E iniziamo questo lavoro La Casa Scarpa L'obiettivo della Casa Scarpa, se non ricordo male È quello di pulire la suola per ultima Quindi, iniziamo a pulire Siamo ancora equipaggiati con la La idropulitrice, quella Media, diciamo Tra l'altro, queste sono delle macchione incredibili, no? Che sono nodi del legno Ok, ok Va bene Iniziamo da questi gradini Facciamo tutti i gradini I scalini Ah, guarda qui Guarda di lato Ok, con calma Facciamo tutto Come sempre Io vi ricordo che parlerò abbastanza poco Durante Durante questi video Perché voglio che Sia da padrone alla fine del gameplay Non c'è molto a commentare Semplicemente Stiamo lavandole la roba E voglio che vi rilassiate Con il rumore Dall'idropulitrice E vedendo Tutto questo sporco Che viene sgorgato Piano piano Da tutta la zona Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Voglio il vasetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.